Un botto terribile ha fatto svegliare poco prima dell'una di notte gli abitanti delle case poste nella zona della rotatoria su dall'ingresso di verso inferiore. Una Mercedes bianca classe A condotta da un giovane, secondo le testimonianze raccolte sul posto dagli abitanti che hanno dato l'allarme a 112, che scendeva verso Esine, ha tagliato diritto alla semicurva prima della rotatoria. Quindi ha travolto i cartelli segnalitici e salita sul cordolo spartitrafico, ha tagliato alla rotatoria, ha impattato violentemente contro l'alto cordolo di granito mandandone in pezzi ed è finita diritta contro il monumento posto al centro della rotatoria, rappresentato dal mozzo e dalla ruota di un maglio storico, posto sotto un tetto di copertura e fissato da plinti in cemento armato e da sostegni in acciaio. L'impatto è stato talmente violento che l'auto è andata semidistrutta mentre il monumento è stato praticamente abbattuto. Gravi danni anche ai cordoli in granito dall'area circostante e dai cartelli segnalitici che sono stati raddrizzati provvisoriamente per la sicurezza degli automobilisti in transito. L'uomo alla guida della Mercedes, secondo quanto testimoniato dalle persone delle case vicine ai carabinieri di capo di ponte che hanno effettuato i rilievi, si sarebbe allontanato barcollando a piedi nel buio in direzione di Esine. Qualcuno ha tentato di richiamarlo indietro ma non ha risposto. Poco dopo sul posto è giunto il proprietario dell'auto, probabilmente un parente del giovane, di cui ha fornito le generalità ai carabinieri titolari delle indagini. Non risulterebbe che si sia presentato al pronto soccorso degli ospedali della zona per eventuali medicazioni.